I ragazzi delle scuole atriane alle prese con lo spinoso problema del bullismo, un secco no ad un problema sociale che riguarda i più giovani, soprattutto tra i banchi e nel periodo dell'adolescenza. E allora le terze medie della cittadina ducale si sono cimentati con l'analisi del fenomeno, attraverso dei lavori premiati lo scorso sabato pomeriggio presso l'auditorium Sant'Agostino. Noi del circolo dell'Unione abbiamo pensato di rivolgerci al tessuto sociale atriano per mezzo di quella parte della società ancora sana, se vogliamo. E questo per trasmettere un messaggio su un argomento che è attuale purtroppo e che si riscontra molto spesso. Li avete messi alla prova i ragazzi delle scuole medie, abbiamo visto però anche tanta sensibilità nei loro lavori, forse nemmeno voi ve lo aspettavate. Ma io sono rimasto veramente entusiasta, meravigliato diciamo così perché questi ragazzi lavorano a questo progetto da quattro mesi. Diciamo che è andato tutto bene, complimento ai ragazzi e non solo, anche ai genitori. È un tema sociale che purtroppo adesso in questo periodo, specie con la cronaca, ne sentiamo tutti i giorni dalle televisioni ed è un problema che riguardano tutte le famiglie. È un fatto sociale molto grave che accade molte volte con questi ragazzi che ormai sono un pochettino da controllare maggiormente perché oggi come oggi è una piaga sociale. Ho notato che c'è stato un grande interesse su questo argomento, c'è stato un interesse comune e quindi io in qualità di Presidente devo ringraziare solo tutti che hanno avuto questo risultato al fine dell'interesse della scuola, delle famiglie e di tutto che sono addetti ai lavori.